Buongiorno a tutti, sono Domenico Colucci di NextMe e oggi qui con Vincenzo vi mostriamo quindi una breve dimostrazione del nostro sistema di localizzazione che sostanzialmente funziona in ambienti chiusi dove non è presente il segnale GPS e il nostro sistema serve maggiormente per trovare persone e oggetti, quindi ridurre e semplificare in un certo senso il tempo e sapere quindi dove ci troviamo in questi ambienti, trovare quello che è più vicino a noi, proprio per ridurre gli sprechi in questo caso e aiutare le persone anche ad orientarsi. L'idea principale è proprio quella di ausilio nella navigazione, proprio come avviene con il navigatore fuori per l'auto, lo stesso l'abbiamo riportato all'interno di grandi ambienti. Per il futuro? Sì, sono. Per il futuro pensiamo di allargare, in questo caso di aumentare la diffusione della nostra tecnologia, proprio perché è pensata per essere scalabile, quindi di facile installazione. Pensiamo che effettivamente la tecnologia deve essere uno dei requisiti fondamentali, sia proprio la facilità. Le migliori tecnologie sono nate proprio per la semplicità in cui la gente lo utilizza, quindi siamo spinti soprattutto nel renderla quanto più semplice possibile per la maggiore diffusione.